E' il passante di Mestre l'autostrada più cara d'Italia. Questo ciò che emerge da un dossier reso noto da Diego Bottacin, consigliere regionale di Verso Nord, secondo cui, escludendo la Torino a Osta, che gestisce anche i costosi trafori alpini, il triste primato di autostrada più costosa della penisola spetta al tratto che collega Dolo a quarto d'altino. Attualmente un'automobile per attraversare il passante deve spendere ben 11 centesimi al chilometro contro i 5,7% della Mestre Padova. Ma c'è di più. In Veneto, tra privati e pubblici, sono ben 5 i concessionari che si spartiscono la torta autostradale, con pedaggi che variano anche del 40% da una tratta all'altra. Un ventaglio di tariffe che confonde gli addetti ai lavori e che impedisce di capire quale sia l'effettivo costo di manutenzione di un'autostrada. Secondo Diego Bottacin, per controllare meglio il sistema delle concessioni nella gestione autostradale si devono mettere a gara tutte le concessioni e mettere così in concorrenza i vari operatori. Invece ora, ad esempio, tratte come il passante sono in mano alla CAV, concessione autostradale venete, società a partecipazione mista pubblico-privata, la stessa che ha costruito l'opera in project financing e che per contratto otterrà la gestione della direttrice per 30 anni, per recuperare sia l'investimento dei 2 miliardi per la realizzazione che i guadagni per i finanziatori.